Francesco Gagliardi, difensore del Lenzo Laurenzio, continua il momento nero, come mai? Purtroppo spiegazioni non ce ne sono, una serie di circostanze, una squadra che in questo momento non rende, non ha possibilità perché ci sono degli infortunati, questo sì, però secondo me bisogna lavorare molto sul gruppo e sulla squadra, in questo momento non c'è gruppo, non c'è squadra e non c'è gestione. Secondo te bisogna lavorare più sul gruppo dal punto di vista psicologico o dal punto di vista tattico e tecnico? Puramente psicologico in questo momento perché altri anni sì, non è che abbiamo fatto primi ma neanche abbiamo sfigurato, in questo momento stiamo facendo delle magre figure e francamente non ci si diverte neanche perché calcisticamente se vai ogni partita a prendere 4-5 gol non c'è divertimento. Per oggi i valori in campo erano sicuramente diversi tra le due compagni, però si poteva fare qualcosa in più? Ma il primo tempo abbiamo tenuto perché sul 2-0 francamente su un rigore sacrosanto ma stavamo tenendo poi il secondo tempo purtroppo faccio una piccola battuta di sfogliatoio interno, sono entrate le riserve e così come alcune volte noi stessi, alcune volte i panchinari siamo stati accusati che siamo entrati senza mortente questo dimostra quando uno entra dopo che cos'è giocare a calcio perché non è semplice ma vale per me ma vale anche per gli altri Grazie Cagliardo Prego